Kamut i benefici del grano più popolare degli ultimi anni. Quanto c'è di vero delle proprietà e dei vantaggi che si riconoscono a questo alimento? Scopriamolo insieme. Il kamut è un antenato del grano duro moderno, prodotto esclusivamente mediante agricoltura biologica. Questo cereale, come del resto il grano, può essere macinato ed ottenere così una farina, la farina di kamut. Oggi, riscuote un certo successo anche in Italia, per la produzione di pane e pasta, oltre che di alcuni dolci. Vediamo quali i benefici e i vantaggi di cui si parla tanto. Scopriamo quanto è vero di ciò che si dice in giro su questo grano. Kamut cos'è il kamut o per meglio dire il grano Corazan, regiatrato poi sotto marchio Kamut, non è altro che una varietà di normalissimo grano la cui produzione inizialmente era prettamente gestita da un'azienda statunitense. Il kamut o cereale Corazan, appartiene alla famiglia delle graminacee e alla specie del grano duro, Triticundurum. Negli anni 70, un'azienda americana perfezionò il processo di macinazione, purificazione e lavorazione di questo tipo di grano e ne fece un successo ancora oggi molto presente. Attualmente, però è coltivato biologicamente un po' in tutto il mondo e con un discreto successo. Secondo una leggenda si tratterebbe di un grano piuttosto antico addirittura ritrovato nelle tombe degli antichi egizi, e proprio da lì nasce il nome di fantasia grano del faraone Tutankhamon, successivamente tramutato in kamut. Mentre in Turchia viene chiamato grano del profeta. Noi che questo grano è avvolto anche da un'altra leggenda, secondo la quale, questo tipo di grano era presente sull'arca di Noe. Kamut benefici e proprietà Il kamut tra i benefici che assicura all'organismo c'è l'energia a lungo termine, noi che si tratta di un alimento molto energetico che fornisce un lento rilascio di zuccheri nel sangue. Inoltre è ricco di proteine, amminoacidi, e sali minerali, di fenoli, dei potenti antiossidanti e carotenoidi, che conferiscono ai chicchi di grano il tipico colore dorato. È particolarmente amato per la sua digeribilità e per la resistenza e compattezza che mantiene dopo la cottura. Infatti conservando queste suddette qualità una volta cotto, resta piacevole e offre un sapore deciso dal retrogusto di nocciola. La farina di kamut può essere impiegata come alternativa alla farina di grano duro, come ingrediente di zuppe, minestre, minestroni, insalate ed ha una particolare facilità nella lavorazione e nella panificazione. I valori nutrizionali della farina di kamut ogni 100 grammi Valore energetico 349 calorie 0,0395 mg Acido pantotemico 0,23 mg Acqua 8,7% Boro 2,0 Calcio 31 mg Carboidrati 65,2% Ceneri 1,8% Codalto 0,3% Ferro 34,47% Ferro 4,2 mg Fibre greze 1,7% Fosforo 422 mg Grassi 2,5% Magnesio 173 mg Manganese 29,3% Manganese 3,6 mg Molybdeno Molybdeno 0,6 Nickel 0,3 Potassio 481 mg Proteine 19,3% Rame 0,56 mg Selenio 1,53 Siliso 441 Sodio 3,9 mg Vitamina B1 0,45 mg Vitamina B2 Vitamina B2 0,15 mg Vitamina B3 5,59 mg Vitamina B6 0,09 mg Vitamina E 1,7 mg Zinco 4 La farina di Kamut contiene anche molti amminoacidi e in particolare, l'arginina e la leucina. Potrebbe interessarti anche, Kamut e la celiachia. La celiachia è un'intolleranza al glutine determinata geneticamente, che causa una distruzione della mucosa intestinale, perciò il consumo di Kamut sotto qualsiasi forma che sia pasta o pane, risulta controindicato ai soggetti intolleranti al glutine, in quanto presente in esso. Sembra però essere maggiormente tollerato, rispetto al nostro grano, dalle persone che soffrono di sensibilità al glutine, perché si tratta di persone non celiache ma solo sensibili al glutine. La differenza sta nel fatto che la sensibilità non innesca la formazione di in altre parole, essere sensibili al glutine ed essere celiaci sono due cose distinte e separate. Lauretta 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 Grazie a tutti.